Benvenuti in questo video, io sono Gianni95, siamo su Fall Guys, bello giocare a Fall Guys, però un termine dobbiamo metterlo, infatti come ho letto in questo episodio, arriveremo a più di 50, anzi 49, poi 50 sarà la live, quindi io mi fermo a 49, poi vi vedrete, adesso mettiamo la modalità, come ho detto prima, io ho fatto una in solitaria, farò a sopravvivenza, a coppie e a squadre per finire, no magari faremo prima a coppie, poi squadre e poi sopravvivenza, quindi finiamo con una possibile vittoria, perché in sopravvivenza è un po' più facile fare la vittoria, potrei fare quella di calcio, oltre che ho paura di perdere, quindi, anzi ho paura di perdere in tutte le modalità, però quella di calcio da un po' che non la faccio, quindi non so come potrei essere utile alla mia squadra, però non ho abbastanza episodi da potervi fare in tutte le modalità, quindi, giocosi pionieri, potevo fare i giocosi pionieri, è vero, potrei fare quella, coppie e squadre, giocosi pionieri, eh, potremmo fare questo, per cambiare un po', visto i giocosi pionieri, spettacolo fuori gemmi in modalità creativa, ricco di avventure e dell'esercizamento speciale, proviamoci, proviamoci, ho deciso di provarci, quindi faremo una modalità per ogni ultimo episodio, per ogni finale, per ogni episodio finale, perché questi sono tutti gli episodi finali, a conclusione della serie, perché la serie vi dico non è che dura all'infinito, quindi, cioè, dura all'infinito la serie, quindi, non vi posso fare infiniti episodi, quindi devo dare un termine io, e il termine l'ho dato all'episodio 50, quindi, ci fermiamo lì, come ho detto faremo una modalità diversa, e poi, naturalmente, dopo, riprendo il discorso di prima, poi dopo, eh, quando arriverò all'episodio 49, perché dopo ci sarà l'episodio 50, l'episodio 50 sarà in live, quindi salterà il venerdì, che dovrebbe essere a vendere l'episodio 50, e ve lo faccio in, vi faccio una live lunedì, così, vi completo for guys, e lunedì, e da venerdì in poi, comincerà Paladin, perché dovremmo arrivare a 50 bisogni anche di Paladin, momenti di adesso, l'ostacco ricordi dal traguardo, Rainbow Riptide, giocato, 183.400 volt, massimo 32 giocatori, gara, primo posto, 20% e 50%, medaglie, è nuova questa, ho fatto questa perché, almeno, vi porto un po' di novità, ma siamo in pochi, ma siamo in pochi, non, vabbè, qualificati, cos'è sta roba, cos'è sta roba, no, allora aspetta, prima di andare lì sopra, ma lì, dopo dove vado, ok, vado qui, ok, dobbiamo andare qua sopra, attenti alla sbarra, facciamo un po' di salto alla corda, ok, ok, vai, va bene, potevo scendere, che facevo prima, comunque, ok, eeeh, sono caduto, sono caduto, ah, posso ricominciare, ok, posso ricominciare, arriviamo al traguardo, qua, devo andare qua sopra, ci stiamo arrivando, eh, dall'altra parte, più facile, ok, sono arrivato, ok, pensavo di perdere, va bene, sopravvivenza ve l'ho già fatta, quindi inutile che vi faccia un altro video di sopravvivenza, e avevo anche vinto in sopravvivenza, quindi, questa mi è piaciuta, mi piace, mettiamo mi piace, mi è piaciuta, rainbow riptide, sia come nome, che come tipo di, di, prova, 16 qualificati arrivano, quello sta fermo, questi qua arrivano al traguardo, ma buttati al traguardo, perché ne mancano due, se hai perdito, dopo è finita, non ti conviene aspettare, dove sta andando questo, cioè, me lo spieghi, cosa stai facendo, me lo spieghi, ma arrivi al traguardo, no, quindi puoi giocare il prossimo round, questo qua, se la vuole giocare fino alla fine, vuole cercare di tornare su, ma non ce la, non ce riesce, il traguardo è lì comunque, se vuoi arrivarci, knifos, it's it's, mancano 30 secondi, se non ti sbrighi, non vieni qualificato, e si è quasi riuscito a salire, se cadi, dopo ti tocca rifare il pezzo, te lo voglio dire, oh, ha deciso di andare al traguardo, bravo, ci ha messo un po' a capirlo, lo faceva apposta, secondo me, però, ma eravamo partiti in 16, 14, quanto dura la modalità, eravamo 17, erano in 16, quanto dura la modalità, perché non vorrei che durasse troppo, Sand Castle Kingdom, muoviti attraverso gli ostacoli, corri al traguardo, come giocare, sempre come prima, una gara, quindi arrivare al traguardo per primi, c'è il prima possibile, rena venga, tuffatore, olimpionico, va bene, rena venga, vediamo com'è la tua, la tua, mappa, va bene, vediamo, 6 minuti di video, non siamo, quindi, Sand Castle Kingdom, tutti di sabbia, andiamo, corriamo, ok, c'era un ponte, dove vado, destra o sinistra, andiamo di qua, andiamo sempre dritti, perché, perdiamo solo del tempo, ok, scalini, incredibili, ah, ah, così, fa un, ah, c'era un pavimento sotto, sotto la merma, incredibile, ok, dobbiamo passare dall'altra parte, fammi saltare, ce l'ho, ce l'ho uscito, ce l'ho uscito, vai, 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 oh, ce l'ho fatta, a pelo, anche loro, anche loro, ah, io aspetterei, perché non vorrei chiedere, lo ce l'hanno fatta, ok, io vado adesso, per sicurezza, perché sennò, quando finisce il tracciato, 14 qualificati, tutte 14 ci possiamo qualificare, siamo in 14, quindi, ah, fatto, perfetto, non c'era un traguardo, però ok, sono, sono piste speciali queste, mettiamo sempre mi piace, perché, come mettete a voi nei video, mi raccomando, quello che mi ha fatto, a salire sul bordo, forse tramite la rampa, vai, è arrivato al traguardo, che finiamo la partita, a meno che non potete cadere, se potete cadere, o morire, ancora meglio, questo è caduto, no, si rigenera, quindi, se può arrivare tutto il traguardo, entro il tempo, naturalmente, c'è un tempo, sbrighi e te arriva il traguardo, che sennò, finisci male, bene, questo, questo mi sa che sta giocando, contro le cose, fa un salto incredibile, però ok, vola questo, vabbè, vola, poi cade, 9 su 14, noi siamo in 14, dobbiamo arrivare tutti, dobbiamo arrivare al traguardo, dobbiamo arrivare tutto il traguardo, attento a non cadere, perché sennò, non ci arriva il traguardo, lui aspetta di girare in tondo, a vedere l'altro, l'altro sta al traguardo, quindi, questo è arrivato, ma arriva al traguardo, se no, lui aspetta qua, incredibile, vabbè, aspetta l'altro che arrivi, ah, si può graffare così, è vero, ecco mi ha fatto salire, ma si è buttato, sei scemo, se, il tempo scade, quell'anno non arriverà mai nella vita, questo perde, fatti, eh oh, si arriva chi arriva, qua, si deve fuori call, se mi ha davvero la modalità, che io riesco a sopassare, e gli altri invece muoiono, e quindi non possono più tornare in partita, nautical shambler, nautical shambler, navigata di sunken obstacle in reach at finish line, massimo 40, gara, è un'altra gara, se non vorrei fare 200 gara, però, eh, se non il video tura troppo il video, stavo a 10 minuti di video, ah, round finale c'è scritto, round finale, ok, ok, l'ultimo, l'ultimo, però speriamo di avere primi noi, ma, non lo so, eh, qua, ok, no, non ci sono arrivato, andiamo dall'altra parte, perché magari è più sicuro, ok, sono venuti arrivare, è un po' difficile, perché i punti sono messi, sono messi un po' male, ah, 13 qualificati, quindi possiamo vincere in 13, solo l'ultimo, no, l'ultimamente è 15, quindi possiamo arrivare primi tutti, sì, tutti possiamo arrivare primi, vediamo di finire questo, round, eeeh, va bene, ok, no, no, non ci arrivo io, non ci arrivo io al treguardo, devo andare da questa parte, perché c'è, ok, stavolta ce l'ho fatta, ok, siamo arrivati, abbiamo vinto, fuori dal treguardo, mi piace, come voi mettete al video, mi raccomando, ok, questo deve arrivare, vediamo se arriva, e non arriverà mai nella vita, anche altri devono ancora arrivare, ah, si poteva passare in mezzo, io che passavo al lato, va bene, vediamo se questo arancione arriva al treguardo, eeeh, per poco, selezione completata di apes, va bene, apes aggiornato, allora, fa l'arrivo al treguardo, bravo, bravo, spingi l'altro treguardo, è arrivato al treguardo, incredibile, lui non è passato, è passato l'altro, questo albero di natale, è rimasto impigliato qua in mezzo, ok, è arrivato al treguardo anche lui, chi manca ancora, manca questo arancione, e l'albero, due, e il terzo dove è finito, o se è ritirato il terzo, cosa sta facendo? A uno si è ritirato, ok, ma arriva al treguardo, sennò non finisce la partita, e dai però, mi fai perdere tempo, arriva al treguardo, bravo, vai al treguardo, no, vai al treguardo, no, basta, perché vuole giocare, fai un'altra partita se vuoi giocare, ma non fare così questa partita, sennò, non arrivi mai più, manca poco tempo, quindi se non arrivi adesso, adesso arrivi al treguardo, presumo, no, non arriva al treguardo, fa tutto il giro, per arrivare al treguardo, incredibile, se la gioca, il vincitore, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho cambiato idea, visto che questa l'abbiamo vinta, quindi questa modalità è facile da poter vincere, perché vincevano quasi tutti, perché avrebbero vinto tutti, se ne fossero arrivati tutti al treguardo, probabilmente, quindi voglio fare altri video di questa modalità, perché ne approfittiamo di fare vittorie, perché ne approfittiamo di fare vittorie, perché ne approfittiamo, e facciamo più partite buone, perché lì riesco almeno a classificarmi un po' di più, almeno è meglio, vi divertite di più se vinco, quindi voglio fare così, se poi mi dite che non dovevo fare questa cosa, me lo dite, io mi arrendo e basta, basta, facciamo qualcos'altro e basta, intanto questa è la fine della serie, quindi godetevi questi episodi, se volete rivedere comunque sono tutti in playlist sul canale, quindi rimarranno tutti 50 sul canale, sia complessa che la live, quindi va bene così, non so se vi ho fatto un'altra live di Fall Guys, forse vi ho fatto un'altra live di Fall Guys, ma prima, o forse no, ancora live di Fall Guys, forse non ve l'ho ancora fatta, quindi è da vedere, intanto spero che questi video vi stiano piacendo, e va bene così, abbiamo vinto, quindi mi raccomando il like, dovete lasciare il like anche se non vinciamo, perché mi fa sapere che apprezzate quello che vi sto portando, e niente, vabbè io spero che tutto vada bene, like, commenti, condividere, perché così più gente guarda i video, e se vi è il canale, così più siete meglio è, e noi ci vediamo in un prossimo video, a presto!